Siamo insieme ad Alberto Perino, anche la Val Sousa oggi ha scelto di partecipare alla marcia popolare contro il terzo valico da Novi Ligure a Pozzolo. Sì, noi non ci sentiamo ospiti, noi ci sentiamo a casa, ci sentiamo a casa nostra perché voi quando venite da noi siete a casa vostra e noi quando veniamo qui veniamo a casa nostra a difendere il nostro territorio perché il vostro territorio è il nostro territorio come il nostro territorio è il vostro territorio perché noi siamo dei ribelli, siamo dei ribelli che vogliamo difendere il nostro terreno, vogliamo difendere la nostra vita, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Continuiamo così, vinceremo.